E rieccoci qua, amici e tifosi rosso-blu, un saluto ai Senza Giacca che ospitano questi interventi e un saluto a tutti i tifosi dopo tre settimane di silenzio sul Bologna per tanti motivi, sosta nazionale, decisioni personali. Mi viene da dire che forse le settimane sarebbe meglio fossero addirittura quattro, perché stasera c'è veramente ben poco di cui disquisire. Dico la verità, ci speravo, pensavo che magari sarebbe potuto andare meglio addirittura dell'anno scorso, quando alla fine fu un pareggio quasi del quale dispiacersi, è stata una sconfitta che non ammette repliche contro una Juventus che a mio parere ha confermato di essere una squadra comunque mediocre. Pensate che praticamente da agosto non vinceva una partita, dal 31 agosto, ci è voluto il Bologna per dargli di nuovo modo di conquistare i tre punti. Un Bologna che francamente non ha fatto praticamente nulla in tutta la partita, io a un certo punto l'ho seguita, l'ho guardata, la guardavo, ho smesso di guardarla sul 3 a 0 e ascoltavo la radio comunque. La radio cronaca era come se andasse in continuità con la telecronaca, anzi, vi dirò, ancora più impietosa. Non è stata una partita che mi fa stare tranquillo e soprattutto la vedo male, sono preoccupato, immagino come me in tanti, perché poco, 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 poco cuore. Arnautovic veramente nel deserto dei tartari, Arnautovic un tartaro, poveretto. Dopo, non lo so, io continuo a dire che si vede che è insofferente, e questo è grave perché comunque veramente l'ultimo, l'unico baluardo di questa squadra che comunque anche con il cambio tecnico, diciamo la verità, non mi sembra aver fatto nessun passo avanti, nessunissimo passo avanti. Ci sono state delle dichiarazioni in settimana sul fatto che con Mijajlovic in certe condizioni i giocatori erano davvero spaisati, in difficoltà, non riuscivano a quadrare anche dal punto di vista agonistico, ma certo questo Bologna di Tiago Motta, due partite, due sconfitte di cui una in casa, quella con la Ventus davvero che non ammette repliche, forse è stata peggio di quella con il Milan, ma io sono preoccupato, sono preoccupato, sono preoccupato perché la vedo male, la vedo male, vedo un Monza che vince 3-0, vedo squadre che comunque sia a mio parere dovrebbero essere abbondantemente dietro il Bologna che invece stanno davanti, solo tre squadre sono dietro il Bologna, siamo in piena bagarre e io credo che sarà una stagione difficile nella quale comunque dobbiamo compattarci noi che tifiamo per il Bologna, dobbiamo crederci nonostante le magagne, le disavventure, le problematiche, dobbiamo stare vicino alla squadra, è l'unica cosa che possiamo fare a partire dalla prossima partita, quindi raga prepariamoci a un anno di sofferenza e quest'anno veramente se ci caveremo le ossa da questa situazione sarà tutto di guadagnato, ciò comunque non impedisce di concludere con il solito inno assoluto che viene dal cuore, forza Bologna sempre!